La mostra Statements si svolge a Palazzo della Ragione di Bergamo e inaugura in occasione del Festival di Arte Contemporanea Art Date organizzato da Veblenck in intesa culturale con il Comune di Bergamo. La mostra racchiude le opere di 26 dei più importanti artisti internazionali da Francesco Vezzoli a Carfei, da Lawrence Weiner a Pippi Lottiviste. Sono artisti che hanno raccolto l'invito a realizzare uno statement, ossia una dichiarazione, da lanciare al mondo un messaggio di come la comunità artistica internazionale ha recepito e vissuto questi ultimi due anni di pandemia. Sono messaggi di speranza, di critica, di reazione che sono presentati sia all'interno della Sala delle Capriate che all'esterno sul balcone di Palazzo della Ragione che per tutta la durata della mostra, che terminerà il 9 gennaio, si configura quindi come un balcone che dà sul mondo e che lancia questi messaggi non solo ai cittadini di Bergamo ma a tutti coloro che hanno vissuto questo periodo della pandemia. È significativo che la mostra si svolge proprio a Bergamo che è diventata simbolo della pandemia ma anche di un processo di rinascita e di sviluppo e di dialogo tra la comunità artistica internazionale e il territorio.